Il 16 giugno 1944 è una data che è rimasta impressa nella memoria collettiva di Carugate. Alle 5 del mattino la località venne circondata dalle truppe italo-tedesche. Arrivati in paese, i repubblichini e i tedeschi consegnarono un ultimatum al podestà Angelo Scotti e all'arciprete Don Giuseppe Bonfanti. Tra i soldati giunti a Carugate quel giorno era presente anche Pietro Koch, un ufficiale di polizia politica italiano che a capo dell'omonima banda Koch si distinse per i metodi violenti basati anche sulla tortura contro partigiani e antifascisti. Nell'ultimatum si intimava la consegna delle armi presenti sul territorio, di tutti gli apparecchi radio ricetrasmittenti e veniva ordinato a tutti gli uomini a 20 obblighi militari, delle classi dal 1916 al 1926, di presentarsi in quella che oggi è Piazza Manzoni. Ogni tentativo di fuga sarebbe stato punito con la morte. Le case, tutti i locali, le stalle, i solai e le cascine vennero perquisiti in cerca di armi. alle 7.30 del mattino la cittadinanza si era ormai riunita tutta in piazza. Secondo quanto riportato nel Kronikon e in base alle testimonianze raccolte, circa un centinaio di uomini vennero ordinati in file di quattro e dopo il controllo dei documenti vennero tutti trasportati in Germania. Sono venuti i soldati di qua perché nelle vie erano uno e uno, tedesco e italiano, che venivano a fare il rastrellamento, vero rastrellamento, casa per casa. Quando sono arrivati qui mi hanno trovato e mi hanno detto vai in piazza, in piazza Manzoni da aspettare, andrò lì alla crocevia, ho visto che c'era il cocco. Io avevo 11 anni e mezzo, non è che sappia molto, però ci siamo svegliati il mattino con un po' di baccano e allora c'era un cortile qui davanti con i portici. Poi si sono sentiti anche degli spari. Hanno obbligato tutti i ragazzi, perché allora erano ragazzi, dal 25 al 20 di portarsi tutti in piazza proprio qui sfilati. Quello lì mi mente bene di aver visto le file di questi, perché un centinaio insomma fanno un gruppo, fanno lì. Mi ricordo che abbiamo sentito tutta la musica, siamo alzati dal letto, tutti insieme in famiglia, siamo andati via alla porta a vedere, in piazza c'era l'andabarco con tutti i tedeschi e anche le più vecchie armate con i fucili che giravano e chiamavano tutti ad andare in piazza. Allora c'era nessuna e c'era la ciprete, dopo Fanti, è andato lì che stava facendo la messa. Ma invece che lui non sapeva niente. Quando si è cominciato a mettersi in fila è successo che il cocco che è andato sopra un altro municipio, ha buttato giù le bandiere perché erano ancora quelle del re nel periodo regio e le ha buttate giù e ha preso Scotti che era un podestà della zona, del paese e l'ha cominciato a ridargurlo per dirgli stai attenti che se troviamo qualcosa il muro è già pronto. Lì dopo è venuto fuori il prete che stava celebrando la messa e ha parlato anche lui con Cocco. Ha detto qui cosa faccio? E devo celebrare la messa come la faccio tutti i giorni. e quello l'ha indispettito dice ehi vada pure a fare la messa e lui è andato. Celebrava la messa e chissà con che cuore celebrava la messa, insomma per evitare magari qualche ragazzotto se era nascosto anche dentro lì. Allora continuava la messa che la mattina lì la finiva mai perché lui aveva a cuore tutti questi ragazzi che pagai da oratori, lui Don Giuseppe, Don Giuseppe Mariani che ha fatto molto per la resistenza. Sempre tra le quinte lui aveva il permesso anche dal cardinale, poteva cambiarsi all'abito che una volta i sacerdoti avevano tutti la talare. Lui aveva il permesso del cardinale che allora c'era Schuster. E dopo sono venuti in giro tutti i pubblichini andarono in giro a vedere se c'erano dei giovani in giro, nascosti. Anche mio papà, anche lui ha dovuto andare in piazza in giro perché tutti loro dovevano andare in piazza e tutti erano in fila, lui stavano a guardare e c'era una musica, suonava una musica, erano tutti pensieri nel senso cosa fanno adesso. Ha mandato a casa bambini e mamme, così hanno liberato la piazza un po'. Hanno cominciato a far arrivare un camion, poi la corriera che veniva dentro a Carugate l'hanno dirottata in piazza e anche quella lì è stata riempita di tutti i giovani. e insomma a un certo punto quando hanno visto che uno, due, tre hanno fatto il pieno, allora hanno cominciato via a Monza. Mio marito si chiamava Paolo Tornaghi ed era nato nel 28 settembre del 25. Ma aveva la mamma qui, aveva coraggio perché quando è successo che lui era dentro e poi lui aiutando tanto Don Giuseppe, cioè quel gruppo lì che gli smistava un po' per l'abrianza a portare le medicine e così. La mamma e la nonna Colombi invece no, 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 non voglio che vai perché poi ti dice, eh mamma, me dopo, no, 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 ti daste chi, la metto là sotto al letto, la cuota giù ben ben perché allora sotto il letto mettevamo le patate, mettevamo il lardo, mettevamo, cioè restava un ripostiglio e quindi ce l'ha fatta, ce l'ha fatta e poi allora ha cominciato a partecipare alle partigiane, ma quel giorno là è stato lungo anche perché sto, sti bagatti che avevano più un centinaio di giovani, erano lì e aspettavano la venuta del Messia. Tutta l'organizzazione militare che c'era a Milano era già stata, come dire, arraffata e messa dentro alla bicocca, non ci guardavano visto, andavi a lavarti la faccia, ce ne aveva uno dietro, di modo che tu non potevi scappare, capito? Dopo lì sono venuti i nostri genitori, persone, hanno lasciato aperto il cancello e hanno lasciato venire i nostri a farci saluto. Appunto, perché, almeno così diceva il papà, perché c'era la Radio Londra e loro erano collegati a Radio Londra per il teatro e lì probabilmente c'è stata qualche soffiata. di carugate. Perché dicevano che carugate c'erano delle armi e se trovavano, bruciavano il paese e c'erano veramente, erano lì dove c'era la croce, una cisterna e c'erano delle armi, non lo sapevamo quelle cose lì e dicevano che è stata una spia, spia di carugate e hanno detto, pensato. Mio marito quando è arrivato il 25 aprile è stato messo la guardia con altri suoi amici a controllare un po' il movimento dei tedeschi, però non avevano l'ordine né di sparare del male. Loro dovevano solo controllare i movimenti di questi soldati, quando poi hanno visto che diventavano in pochi e poi non avevano voglia di fare del male, oltretutto avevano ordini precisi dovevano solo rispondere se venivano attaccati e quindi visto così adagio anche loro se ne sono andati dall'aquedotto e loro si sono spartiti i mouse però senza munizioni. L'ho detto tante volte a mio marito, ma butal, non c'è niente, non è che puoi usarlo. No, 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 per me ne ricordo. No, 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 per me ne ricordo. No, 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 per me ne ricordo. Grazie a tutti.